picciotti di sicilia tutto tondo togliete chi c'è c'è oggi arancine ma per chi perché è santa lucia non c'è santa lucia senza arancine e chi ce l'ho fatta in casa le mie macie e se volete vedere la ricetta basta seguire questo video vero mamma e oggi pure una sorpresa i primi arancini di vittoria allora picciotti siamo pronti mamma 1 2 e 3 ammoni e vabbè come facciamo starancine siciliane e passiamo all'azione mamma oggi ti portavo a toglia oggi è felice e oggi c'è vittoria amore insegnati perché i prossimi lo fai tu per ora che cosa abbiamo fatto per accorciare i tempi abbiamo fatto alcune cose prima riso riso e ragù allora il riso come faccio si vuole il riso con un sale zafferano e basta si fa il ragù classico come ognuno lo sa fare oggi ci mette ma che cosa si è rego il mio topo magico è la cannella e la foglia d'alloro questo è importante e qua ci mette pure un burro alla fine qua quando si è raffettato un po' ci metto una noce di burro capisci ma un dormere insegnate perché i prossimi vengono a fare tu allora iniziamo adesso a comporre le sarancine vai allora l'impasto si aggiunge almeno noi aggiungiamo nel riso nel riso nel riso nel fatto si le uova due uova anche se c'è lo zafferano che ci porta il colore giallo ma le uova gli portano un altro sapere le uova noi stiamo facendo due uova per quanto? un chilo e mezzo di riso un chilo e mezzo di riso e la mamma ci mette due uova e poi? poi ci metto il grano o il parmigiano ah picchissimo vengono così gustose allora questi due ingredienti nelle rosticcerie non ce li mettono certo perché non ce li mettono perché vanno per tante persone ci possono essere persone che sono madagalleno anzi si è maleggita tutte cose ma chi sto? no l'arancina è un legno complessa e l'impasto già in sé viene gustosissimo non è il solito riso squarato brava quindi adesso si impasta il riso con queste cose adesso si amalgama 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 allora forza nonna facci vedere queste arancine come si compongono allora io metto un po' d'acqua voglio fare questa premessa c'è chi fa una specie di pastella? no agg no no agg no no agg siamo buoni dall'ordine quindi ti baggio le mani prendo il riso vediamo amore prende il riso la nonna lo schiaccia ci metto il condimento un bel cucchiaio di carne vegetato e piselli vai e poi ci metto l'altra acqua un poco così l'acqua perchè mi devo bagnare le mani altrimenti non uscirò quindi al sorriso un picciolatore in capo e si assembla diventa rotonda tale amore mio tale che meraviglia tale che meraviglia chi sta baggiando la nonna e poi dopo una bella scingiuta si passa nel pangrattato abbiamo quel pangrattato e vai 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 falle falle che ha già un po' con i figli e un uomo e il risultato è finito mettele qua con l'autore aspetta ecco qua questa cittina è pronta per essere fritta avanti mamma questa sarancina dentro questa friggettice che questa friggettice aveva la stessa età e ancora frigge alla grande vai è vecchia quanto te becchia quanto è me forza qua ci ci vanno qua ci ci vanno si qua ci ci vanno avanti cala 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 e cala ah così bagnetto pronto vai allora già sono belle fritte avanti avanti che già mi sento mucca ma mucca mi sento delle che sono belle ma che sono? pare non è in notte d'ora non è in notte d'ora mentre la mia madre continua a fare l'arancina e già prima siamo finendo in tubo con un viaggio di fumare abistora l'ho portato ok per che si chiama una pedaggia come se avvecciate率 speciate in arrancina un piatto mi sento un signore è finalmente il momento più bello della giornata l'assaggio dell'arancin chiusa mamma tu a dire come fattuscia del giro non ne fa nulla grazie assaggiamo assaggiamo forza chi c'è la sorrida guarda guarda chi c'è qua tale che c'è qua tale che c'è ma che è una meraviglia ma chi è? assaggiamo assaggiamo di impazzire pigiotto di impazzire mamma vuole 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 andiamo a fare una tavolata ma a fare 100 rangini ciao pigiotti buona Santa Lucia ciao e mangiate quelle arancine che vi fanno bene buona